Diminuiscono gli incendi, cresce il numero di multe per chi non rispetta le norme sul taglio dei boschi, sulla caccia o in caso di abbandono di rifiuti. Sono alcuni degli aspetti emersi dal bilancio del Comando Provinciale della Forestale di Piacenza, che nel 2013 ha emesso 285 sanzioni per un importo di oltre 138 mila euro e 38 denunce, di cui 27 contro i gnoti. Il primo posto dei reati spetta purtroppo la violazione delle regole sul benessere animale, con 16 casi di bocconi avvelenati ai danni di altrettanti cani. Tra gli episodi più rilevanti, 5 violazioni in materia di rifiuti, 2 denunce per metodi di caccia proibiti a Pianello e Ferriere, dove sono stati rinvenuti elastici per la cattura dei cinghiali, e 2 interventi per estirpare piccole coltivazioni di cannabis presenti a Gropparello e Vernasca. Anche truffe e furti, 5 quelli segnalati, hanno impegnato gli uomini della forestale, tra cui la sottrazione di 400 quintali di legna, tagliati illecitamente da una ditta ai danni di un'area verde ed emaniale in Valluretta, e la sparizione di un gufo, proprietà di un agriturismo di Bettola. Solo 4 le denunce per incendi nei boschi, 14 in meno rispetto al 2012. Questo anche grazie ad un'attività che il corpo forestale svolge a livello dei distretti montani, di educazione ambientale, e quindi è un po' cambiata la mentalità delle persone che vivono in montagna. Mentre prima si ricorreva il fuoco per pulire i boschi, oggi lo si fa meno, grazie a Dio, e quindi abbiamo meno incendi. 59 sanzioni per irregolarità nella caccia e più di 120 per tagli di piante eseguiti da private o aziende non a regola d'arte, una procedura che mette a repentaglio la rinnovazione dei polmoni verdi. Gli importi più consistenti riguardano le attività estrattive. Sanzioni più pesanti hanno riguardato le cave, in modo specifico quelle lungo il fiume Trebia. Abbiamo svolto un'azione insieme alla Polizia Provinciale. Sono stati controllati praticamente tutti gli operatori e abbiamo anche elevato delle sanzioni piuttosto pesanti, insomma, superiore ai 60.000 euro, diciamo, per mancato rispetto della volumetria estratta. Il Corpo Forestale di Piacenza si conferma sotto organico. Il personale conta 30 addetti, 6 meno del 2012, che corrispondono a circa la metà del bisogno effettivo del territorio.